Che giorno, che giorno turbolento questo 27 maggio dopo le dichiarazioni di Paolo Maldini, che ha accusato di irrispettosità la proprietà e i dirigenti Ivan Gazzidis e Elliot perché non sono stati ancora Maldini e Massara convocati per il rinnovo del contratto. Poi ci sono altri temi, magari la proprietà non è d'accordo con me su certe strategie, ma io però posso non essere d'accordo sulle strategie della società, quindi una larvata minaccia magari di inandarsene nel caso che non trovino corrispondenza alle sue idee. Queste però sono le dichiarazioni, non voglio tediarvi, le dichiarazioni sono chiare. Il titolo è «Sono stati rispettosi, non abbiamo ancora parlato di contratto, rinnovato il contratto». Allora adesso vi esprimo i miei sentimenti, poi entreremo nello specifico per capire di che cosa siano figlie queste dichiarazioni di Maldini e che cosa trapela dalla proprietà. Io mi sono fatto un quadro generale non solo di impressioni ma anche di contatti e di telefonate. Allora cominciamo col dire, signori, che queste dichiarazioni, queste polemiche, queste esternazioni che hanno sorpreso anche la proprietà e anche i tifosi, in questo momento non toccano minimamente la mia enorme stratosferica gioia per aver vinto il campionato. Cioè se su una bilancia metto la dichiarazione di Maldini, le eventuali preoccupazioni per il futuro e dall'altra la gioia per lo scudetto, qui c'è una tonnellata e qui c'è un grammo. Quindi non mi ha per nulla addombrato, dopo un mese di illusioni, di sofferenze, di partite in curva, di cori, di gioie, di soddisfazioni, di tensioni, di pressioni, nel mio animo non alberga nient'altro che la grande felicità per aver vinto lo scudetto. E questa gioia, e ho messo fuori la bandiera, domani mi metto un bel Instagram, devo comprare dei gerani. Quando ho messo i miei bei gerani e la bandiera del Milan, con scritto 1-9-19, ve la mostrerò a dimostrazione della mia immensa felicità riguardante la vittoria, per la vittoria del Milan. Quindi so che ci sono dei colleghi che la pensano diversamente, tifosi giustamente un po' agitati e preoccupati, il mio sentimento in questo momento è solo un sentimento di totale gioia. Fosse successo questo a gennaio, febbraio, marzo, chiaro che anche io avrei avuto l'animo un po' scombussolato, l'animo un po' agitato. Qua, prima di togliermi in questo cielo blu meraviglioso, dove c'è scritto il diciannovesimo scudetto, prima che entri in questo cielo blu una nuvolina bianca, deve venire altro che polemiche o dischiarazioni di Paolo Maldini. Quindi questo è il mio sentimento. Sono sereno, non voglio pensare adesso al futuro, avrò tempo, intanto penso al recente meraviglioso passato e al meraviglioso presente che vede i balconi di Milano ancora tutti illuminati dalle bandiere rossonere, dal numero dorato 19. Quindi questo è il presupposto. E allora posso affrontare con voi, posso riflettere ad alta voce con voi. Perché Maldini ha detto questo? Che cosa ne pensa la proprietà? Allora, Maldini forse ha esternato questi suoi pensieri, queste sue riflessioni, perché forse è preoccupato di dover passare un'altra estate non con un buon budget per comprare giocatori che, come ha detto, debbano poi aiutare il Milan a salire ulteriormente di qualità, ma debba sempre confrontarsi con proprietà che siano attenti alla sostenibilità. E forse Maldini dice abbiamo una bella base, manca poco. E allora esterna il suo grido di dolore. Qualcuno dice perché l'ha voluto esternare in maniera pubblica, ma non vede tutti i giorni Gazzidis, ma non c'erano Paul e Gordon Singer per esprimere questi pensieri? Io perché lui abbia deciso questo? Sinceramente non lo so. Indubbiamente è abbastanza simile, qualcuno ha detto, all'esternazione quando doveva arrivare Ragnini di Boban, un'esternazione che ha creato sconquarsi, ma là non c'era un campionato vinto. Quindi è un Maldini che ovviamente ama il Milan, ma i tifosi dicono perché non è rimasto dentro nel vostro alveo, perché hai voluto esternare così fortemente la cosa. Io penso che sia proprio per cercare di dare soprattutto un messaggio a chi sta per arrivare. E indubbiamente Gerry Cardinale si trova al rinnovo di Leao e si trova Maldini in questa situazione. E quindi anche adesso rinnovare ci sarebbe anche l'imbarazzo da parte dei proprietari perché sembra che rinnovino Maldini dietro la spinta di Maldini. Da quello che abbiamo sempre saputo, da quello che abbiamo sempre letto, Maldini non è stato emassara, emongata. Non sono stati mai in discussione. In discussione a sentire altre campane mi dicono, attenzione, ma noi abbiamo già parlato di questo. Leggendo Maldini sembra di no, quindi io non lo so. Leggendo A, sentendo B, non è che ci sia una leggera comunanza, sembrano proprio due poli opposti. Quindi io credo che per la proprietà sia un po' incomprensibile. Maldini invece ha ritenuto opportuno esternare così duramente il suo pensiero e allora speriamo che tutto questo, come già nel passato, perché signori, il Milan è andato avanti in maniera coesa, ma delle, non dico contrasti, diciamo punti di vista diversi. Ce ne sono stati tanti. Ricordo il discorso su Tonali, con la proprietà che lo riteneva troppo elevato il costo, ci sono state discussioni e quindi i punti di vista ci sono stati, che sono sempre stati superati per il bene del Milan. Non ho in questo momento pensieri che possano essere, che non possa succedere così anche in questa occasione. Una sferzata di Maldini, bisogna vedere la proprietà come la prende, ma indubbiamente Maldini deve essere, deve rappresentare la continuità, sempre che Maldini, non lo escludo a priori, poi però si adombra in maniera così particolare e così forte che saluti la compagnia. E attenzione, attenzione, perché Paolo Maldini, lo dicevo ieri, nonostante degli inviti nelle proprietà passate, non ha mai voluto entrare perché non vedeva il progetto. Se lui non vede il progetto di rimanere non rimane, chiaro che porterebbe ulteriore turbolenza perché il post Maldini chiunque arrivasse sarebbe una pressione e una responsabilità enorme che poi possono essere coperte dai risultati, ma possono poi però portare a dei problemi ulteriori. Su una cosa sono invece totalmente d'accordo con Paolo Maldini. lì si tratta di esternazioni e di messaggi, qua si tratta di una frase e io sono totalmente d'accordo con Paolo Maldini. Il prossimo San Siro, il prossimo stadio, non deve essere la bombonierina, la bomboniera da 50.000 spettatori. 45.000 è l'Allianz Riviera di Nizza, visto anche il bacino. Signori, ha ragione Paolo, non dico di costruire un monumento che poi non rimane mai vuoto perché il pubblico viene, ma anche per permettere poi di avere dei prezzi sempre importanti nei confronti dei tifosi, eccetera, lo stadio deve essere uno stadio imponente. Lì, a me, io non sono mai entrato nell'ordine di idee, ma se doveste chiedermi ma tu vorresti uno stadio da 50-55 o da 75-80? E io direi uno stadio da 75-80, come lo stadio del Bayern Monaco, sempre tutto bello raccolto, però uno stadio imponente, uno stadio importante. Milano non può 55.000, la bombonierina non mi interessa. Chiaro che mi dite beh, beh, allora però non c'è lo spazio, si trova da un'altra parte, però su questo punto sono totalmente d'accordo con Paolo Maldini. Lo stadio deve essere uno stadio degno di Milano, degno di tifosi che occupano 70.000, ma parlo anche dell'Inter che ha avuto oltre un milione come il Milan, di spettatori. Se lo stadio deve essere in comune, deve essere uno stadio importante, se deve essere solo del Milan, deve essere uno stadio importante. Ma voi pensate, con il Milan in Champions League, coerentemente si cercherà di mettere in campo un Milan dai grandi campioni, dai grandi risultati. E dobbiamo soffrire noi tifosi, perché anch'io piglio i biglietti, quando per mia moglie, quindi quando non vado in tribuna stampa, vado anch'io, ebbene non possiamo impazzire con richieste per 70.000 per una parere importante con Real Madrid in uno stadio da 55. E tutte le volte le corse, le difficoltà, no, bisogna mettere i tifosi del Milan, grandi protagonisti, insieme a Pioli, ai giocatori, allo staff tecnico, alla proprietà, alla società, ai dirigenti, di una grande vittoria in campionato, di non dover soffrire per prendere i biglietti, alzarsi alle 5 di mattina per farle a fila. No, il rispetto per i tifosi non è solo quello di avere dei prezzi intelligenti che possano aiutare tutti ad andare alla partita e il Milan l'ha già fatto, nelle ultime partite c'erano dei prezzi splendidi, brava proprietà, brava società, brava organizzazione, però non è possibile andare in uno stadio a San Siro con 55 mila spettatori. 55 mila spettatori, ripeto, Milan e Inter, Inter Empoli, Milan Genoa, erano 70 mila perché c'era voglia di vittoria, c'era voglia di vivere questa realtà. 55 mila va bene in una città di un club che non abbia innanzitutto un bacino già milanese perché ci sono tanti milanesi e tanti lombardi. La Juventus è diverso, per esempio diciamo Milan anche lui e anche l'Inter hanno tutta l'Italia ma a Torino non è che i juventini torinesi occupino tutto lo stadio, Milano invece è già diversa come mentalità e come storia, ecco diciamo così. Quindi su questo punto sono totalmente d'accordo con Paolo Maldini. Signori, Milano è campione d'Italia, Milano è campione d'Italia, qualcuno è preoccupato per il futuro, preoccupiamoci quando vedremo diciamo gli elementi per preoccuparsi. Paolo Maldini ha lanciato un segnale di allarme, la società, anzi la proprietà è rimasta sorpresa da questo segnale di allarme, arriverà la settimana prossima la nuova proprietà e quindi capiremo come si muove. Certo che Gerry Cardinale ha già due belle patatone potetos, hot potetos, patate bollenti nelle mani. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegati e attivate la campanella.